Eeeh what's up a tutti c'è ormai e benvenuti a giocherini in questo nuovissimo episodio su Oxenfree Vediamo ragazzi se riesce a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno dopo che l'ultima cosa che abbiamo vissuto nello scorso episodio ragazzi E' stato un ricordo di una giornata assieme al fratello di Alex Quindi adesso ci ritroviamo di nuovo insieme al nostro amico, migliore amico Ren E il nostro obiettivo ragazzi è ancora quello di andarcene via Intanto continuiamo comunque ad andare verso destra perché è lì che stavamo andando ragazzi Mi sa che stavamo tornando indietro se non erro Dopo che comunque avevamo vissuto altre insomma brutte esperienze con visioni e cose del genere Ui No Eh esco messo sul nostro ricezzo Ok ma infatti che ci frega Clarissi è andata però dov'è No No Starà bene dai A questo punto Direi di sì forse è l'unica cosa che ci rimane da fare Sì sì dammi un attimo Ok proviamo adesso la stazione ragazzi Sì Mirate un attimo Sono qua Pascavocca Eccoci qua Funzionato L'avvenzione delle frequenze Wow Ditemi grazie ragazzi Eh speriamo speriamo infatti pensiamo a cose felici Uh Non pensiamo che quest'isola infestata era chissà quali presenze No Uh Pensiamo a cose felici Unicorni e gattini rosa Eh Eccola là Rennie il tuo desiderio è stato esaudito Ah Ecco la barca Ok direi di Affrettarci a questo punto No Visto che siamo arrivati fin qui Sani e salvi Diciamo Sani di mente Non lo so A sto punto Però Perlomeno Nel corpo siamo a posto Ah aspettate Dovevo andare di là dove sta andando Rennie Ma qua si può aprire Si poteva entrare in cantina Ehi hai Ah Qua cosa c'è Ah Renn You were right There's like a ledger here The Adler family does own the island And Here's a Combination for a padlock To a Chest Is all it says 29 18 54 Spero che tu te lo ricordi il numero Perché ho già lo scordato Non penso Ma dovrebbe essere qua Ok qua sembrerebbe non esserci più niente ragazzi D'accordo Direi di dirigerci Sul molo E di raggiungere Renn e Nona Che sono rimasti soletti Attenzione Renn potrebbe aver allungato la mano Sulla chiappozza di Nona Renn Ah ok Forse in casa Vabbè a sto punto Visto che la supposizione è stata Forse potrebbero essere in casa Mi sa che non ci rimane che provare ad entrare in questa immensa casa Che non mi ispira niente di buono Devo essere proprio sincera Non c'era Cerchiamo subito di aprirla Allora Non c'è alcun problema Forza Apri tu sesamo E qua Eccola qua Ehi Certo Non perdiamo tempo Entriamo in casa Raga E là C'è qualcuno Ragazzi state lontani No Io non mi fiderei più di tanto C'è qualcosa che non va in te C'è qualcosa che è Bene 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 ragazzi da Mosè da fa Ibreria Zia Non ti offendo Perché qua è pieno di altri ragazzini Perché se no qualcosina te lo dovrei dire Te lo dico così proprio Per sommi capi Capisci a me Va bene Vuoi salire Vai tu vai tu Io non Io no Alex Io non avevo detto di voler salire No Ok Quali erano i numeri L'impressione che aprire quella cassa Non è una buona idea Qualcosa Che non è una buona sensazione Che non è una buona sensazione su sto posto Proprio per niente Trovate Jonas Sapevo Non vi ascolto più Basta Che avete fatto ragazzi Oh Nona Che gli avete fatto Madonna santa Sappiavo io che sarebbe successo qualcosa prima di uscire Come lo sapevo Jonas per favore Ho bisogno di te Lo specchio c'entra qualcosa No Che strano Vediamo lì qua Di che sto parlando Ma di che stai parlando Ma non è stato Come potevo saperlo E se non lo facessi Che cosa se non Che cosa se non sto qui E non andiamo Con noi La riflessione di cooperare Va incurrere penalti Ma è la tua scelta Oh Ora Iniziamo con la softball Mi arrogo Mi arrogo Con il mio piccolo oio Radiazione C'è ovviamente un tempo Lì Oddio Che c'entra Oddio No 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 Sta cosa No 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 Sta cosa mi mette l'ansia Posso andare lì sopra Radiazioni dove? Radiazioni No 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 Lei dov'è? Ecco Immaginavo In che senso Di che stai parlando? Di che stai parlando? No 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 vabbè raga Ma così in se può No 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 Nodo di che? Nodo di che? Oddio raga No sta cosa Mi mette troppa ansia Che ne so Che ne so No 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 E portate l'indietro C'è raga ma col tempo pure il limite Non si può Ok questa deve essere per forza la foto Questa deve essere per forza la foto Questa qui Questa era facilissima Smettila Che senso Cos'è? No, 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 non fatevi del male Vi prego, no No, no No, ci deve essere un altro modo Vi prego You had your time Don't take ours Just because you had some Some accident We never had our time It was ripped from us We watched the universe's conception fly To its demise Over and over And over again When our vessel dashed on the rocks We have until dawn And so will you We would spend that time wisely And We thank you for your good service No, no, no Quindi sono fregata Merda, miseria, raga Ma perché? Sono rimasta da sola Oddio, non di nuovo Non influenzare Michael Ok, ma chi sei? Continuo a non capire cosa diavolo stia succedendo È tutto assurdo, va bene? È tutto dannatamente assurdo Cioè, queste presenze vogliono praticamente Risucchiare i miei amici O una cos'era del genere Madre mia Perché ci siamo dovuti mettere in questo disastro? Non lo so Sì, dai Metti a posto sta questione No, ma che sogno Bella immagine Grazie Oh, io ci ho provato Scusate, ok Ho provato il mio best I mean Quando le cose stanno spingendo È difficile di even know Che cosa stava parlando Quindi, I mean Christ If Clarissa was whisked away To the cave By nuclear submarine monsters Then I mean Il plan has to be To retrieve her, right? Chi c'è il coraggio di andare? Dobbiamo risolvere il problema Effettivamente Bella domanda Maggie magari aveva un metodo Che ne so? Che ne so? No, dobbiamo risolidarci nella grotta Buu Buu Si 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 Quindi Ah, bene Guarda caso Non Mi importa Ah Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo passare alla cantina In pratica Cioè, quindi dobbiamo cercare di eliminare il problema alla radice Questa era la questione Ma se effettivamente lasciassimo Clarissa Che sembra, insomma, coinvolta nella cosa più di tutti noi La lasciassimo qui tipo a marcire, no? Con i suoi amici demoniati e ce ne andassimo Forse sarebbe meglio, non credete? Vabbè, vediamo cosa abbiamo qua Se c'è qualcuno Vabbè, ma possiamo fare qualcosa? C'è qualcosa in qui? Experiments e findings of experienced phenomena Januari 52 Awesome Oh, man If this turns out to be just prehistoric home videos Yeah Oh, è dolce Buuu Zitta Ok, allora, siamo arrivati Ok, siamo arrivati più calma, credo Quindi, se guarda le line o qualcosa Il bomba di scuola deve andare in un po' di 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 un po' Oh, ma è rifugio in chiuso, giusto? No, ve l'ho detto Forse dobbiamo Lo so Or we're boned Precisely Oh, sorry, this looks like the end But from the wrong film thing No, 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 wait This is something I actually remember from that stupid radio tour thing Because it, like, sounded so weird It's called the call and response system It unlocks the bomb shelter This is showing us how to do it See? It says when someone sends an emergency signal from the catbird station in the woods And the receiving station confirms it It's like a connected response thing Con l'attrezzatura funzionerà Pensiamoci a fondo Abbiamo bisogno di codici Ok, quindi il nostro obiettivo attuale è di usare la stazione di risposta Qua dice di riposta Per aprire il rifugio Quindi dobbiamo andare lì Là sopra Ah, Gesù, Giuseppe e pure Maria Va bene È un piano estremamente improvvisato Ma Che ci possiamo fare Non lo faremo Blu non lo so Vabbè Niente raga Dobbiamo andare lì E vedere insomma se questo piano totalmente folle Alla fine funziona Però qualcosa bisogna fare Perché cioè Restare così con le qui Con le mani in mano Non mi sembra avere molto senso Per cui Sicuramente nel frattempo Rincontreremo Clarissa da qualche parte Con i suoi amicchetti Lì a farci i test E i giochini Di sta gran cippa Vabbè Andiamo via va Ci resta che andare ai boschi del pipilo Mi sa che possiamo Oddio che sta succedendo di nuovo Adesso Ho visto Ren a fugare Ne L'ho fatto Lo so eh Ren È facile dire così Ma sì Dai sta bene Se sta premonizione Ce l'ho Non è facile Non è facile Non è facile Ragazzi Uh Prendi Ho fatto il plan Perché se ho fatto il certo No Ren stai bene Ren Stai bene Non è facile Non è facile Non è facile Non è facile Nel ultimo Nel ultimo O No Fiddle è una fiddle Beh Come una fiddle Che potresti trovare In qualcuno Che città o qualcosa Svegli 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 Ok Satisfied Ok Mi raccomando Sta attento Ciao ragazzi Ciao Vabbè Almeno siamo assicurati Che per lo meno Per adesso Ren È a posto Per cui Non ci resta Che continuare Ad andare Verso sinistra Ok Sì La strada È quella giusta Ragazzi Ci siamo Intanto Sono quasi sicura Che succederà Qualche altra cosa Inquietante E che ci destabilizzerà Totalmente Eh Le 4 Le 4 È massimo La pizza Ovviamente Tutto ciò che abbiamo Che dobbiamo Sedia strana Bella definizione Non ti preoccupare Già Ci sono tante cose Strane Sparse Qua in giro Ok Continuiamo Ad andare A sinistra Vediamo Che su Ah Mierda Ok Basta saltare Hop La musichetta Fa cagare Addosso Ok Devo andare Di qua Sì Non c'è Altra Altra strada Non vedo l'ora Di incontrare Di nuovo Strane Presenza Eh Ancora Lo spero anch'io Jonas È inutile Che continui a chiedere A ripetere Eccetera 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 Perché Cioè Solo Sai Vivendo Cioè Chi vivrà Vedrà Così si dice Di solito No Va bene Non ci resta che andare su E su E su Aspettate un attimo Perché qua c'è una porta Ragazzi Con un triangolo Ah Questa era la porta Sì Quella dell'illuminazione Quando se n'è andata La luce Era tutta la montagna E' stato un momento Tipo Orribile Sì 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 Adesso mi ricordo Va bene Non ci resta che Allora andare in cima Un altro Ancora No Guarda Lasciamo perdere Perché E Eh Si Sì Dio santo Quando ci vogliono Torturare Questa questione È abbastanza Continuo a dire Che è abbastanza Infietante È tutto Dannatamente Infietante Non c'è niente Che non sia Inquietante In questi attimi Di incubo Se vado di qua, che succede? Niente da fare, raga Se vado di là, se vado qua sotto Oh, 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 oh Così Oddio, no No, no, no Non può essere, no Come? Oddio, oddio No, 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 no Chiudi il becco Stai zitto Ah, pure Una proposta Ma per quanto mi sta sulle palle Clarissa, per me potremmo anche starci Il punto è, chi mi assicura Che manterrete la parola Scusa, certo, prendete Oddio, non lo so A sto punto, io direi Perché avete bisogno del mio permesso, scusa Cosa? Non capito Perché avete bisogno anche di mia permesso Se avete già Ah Bene, prendete E Bene E Sì 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 Andatevene basta Ok Jonas Ragazzi Magari ho fatto una carognata pazzesca A lasciargli Clarissa Ma per quanto mi stava su le palle Sinceramente non è che ho fatto poi così tanta fatica Devo essere proprio sincera Eh che palle Ok qua c'è un registratore Anzi ce ne sono Tre Nona Nona quella lì raga Che fai qua Non c'era il vostro amore, Alex Scusi, non c'è cosa succedente Un minuto c'è stato lì E poi... C'era proprio... Non c'è nulla 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 Ma... Non c'è nulla 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 Ren potrebbe essere flattato Per ascoltarti di dire qualcosa di lui Quindi... Se si può ascoltare questo C'è nulla C'è nulla C'è nulla Ma... Sì 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 Vabbè Attiviamo pure quest'altro registratore raga E vediamo se riusciamo a rimettere a posto pure quest'altro nottempio Sì Corale Eh Sì Eh... Ti ricordi di Ren e Nona? Sì Però va proprio vero Non lo so Non lo so Potrei... Sì Sì Ma... Che dobbiamo sapere? Ma... C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui? C'è... Sono... Oh... Sono... Credo che sono... Sono... Sono entrambi i baby Ehi... C'è qualcuno? C'è qualcuno? Sì No... Jonas? Non ti azzardare Che no! Ma infatti... Non ho intenzione di ascoltare Ok... Sì sì ci siamo Ah Ok Becchiamo la... La frequenza Eh... Oh... Ce l'abbiamo fatta raga Ci siamo Finalmente Eh... Eh... Ragazzi Nati Eh... C'è dovuto... No... Non fa più vicino che tu ti stai divertendo Ok... Ok... Invia... Che cosa? Siamo... Ci vediamo là? Ok... Ok... Chiudi il buco del tempo e salva la situazione Perfetto... Quindi l'unica... L'ultima cosa che ci rimane da fare è proprio quella lì Non ci resta che tornare indietro Beh raga... A parte un altro loop temporale A parte il fatto che abbiamo sacrificato una delle nostre compagnie Cioè... Non ci resta adesso che andare nella caverna Cercare di aprire uno squarcio spazio temporale della miseriaccia E vedere di risolvere la situazione Tutto nella norma Tutto semplicissimo Tutto tranquillissimo Perfetto... Ok... Allora... Mi ha appena salvato la partita Molto probabilmente ragazzi Il fatto che io abbia deciso di sacrificare Clarissa Verrà comunque fuori Quindi molto probabilmente questa cosa sarà a nostro sfavore O questa netta impressione Perché comunque nona era amica di Clarissa Quindi potrebbe succedere qualcosa di brutto secondo me Se dovesse venire fuori questa notizia Staremo a vedere Vedremo cosa succederà la prossima volta Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Obdosha a tutti i ragazzi Ciao! Vi ricordo ragazzi Che se volete costanti aggiornamenti sul canale Potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione E anche il link per farmi delle donazioni Ciao!